Ma quindi ad Egghead vedremo altri scontri perché ho notato che ci siamo soffermati molto a discutere dello scontro principale, quindi quello che stiamo vedendo al centro dell'isola riguardante principalmente Luffy, ma in realtà non ci stiamo concentrando molto sugli altri scontri dei Mugiwara. Vorrei proprio prendere questo video anche per come è collocato all'inizio della settimana in cui si ricomincia con i capitoli per cercare di dirvi che cosa ne penso io dei vari scontri che potremmo vedere ad Egghead e degli altri personaggi secondari e anche un po' per rinfrescarci la memoria degli schieramenti di Egghead che sono veramente incasinati in questo momento, scrivendo il video me ne sono reso conto, quindi credo che questo video sia molto molto utile. Ragazzi bentornati su Mera Mera, come al solito siamo pronti a cominciare, saretevi comodi e come al solito vi ricordo di scrivere sotto nei commenti la vostra opinione su tutto quello che diremo in questo video. Prima di cominciare però vi voglio ricordare la collaborazione con uno spettacolo veramente veramente figo in collaborazione con Toei Animations Italia. Il 10 maggio si terrà al Teatro Metropolitan a Catania il One Piece Symphony Music 3, un evento super ragazzi, un evento in cui un'orchestra sinfonica suonerà la soundtrack del nostro anime preferito di One Piece, concentrandosi anche sulle parti recenti tra l'altro della storia di One Piece. In descrizione trovate il link diretto per acquistare i biglietti, potete scegliere anche la vostra poltrona dove volete effettivamente vedere lo spettacolo. I biglietti stanno per finire, siamo sempre più vicini alla data chiave, quindi ragazzi mi raccomando, link in descrizione e non perdete questo evento pazzesco, sperando che poi ce ne saranno anche altri in giro per l'Italia, ma se siete di Catania, se siete siciliani, magari cercate proprio di esserci ragazzi. E io direi che possiamo finalmente cominciare e cominciamo partendo da un degli schieramenti. Gli schieramenti si dividono in due personaggi ben distinti. Il primo di tutti che rappresenta il suo schieramento ovviamente è Zoro. Ecco, lo schieramento di Zoro, io lo definisco così. Allora, questi schieramenti che vedremo in questo video, ve lo spoilerò un po', in realtà, in realtà dovrebbero essere divisi in quattro schieramenti diversi, ma da quello che abbiamo visto nello scorso capitolo, in realtà questi due si stanno unendo con altri schieramenti un po' più deboli, tra virgolette, e quindi secondo me possiamo parlare di due grandi schieramenti diversi. Nel caso di Zoro, in realtà, che insieme a Jimbe si sta riunendo con un altro gruppo, stiamo parlando veramente di un gruppo molto molto folto, quindi abbiamo tantissimi personaggi che fanno parte di questo gruppo qui e che quindi potrebbero partecipare alla battaglia contro qualcuno di importante. Per farla breve, lo schieramento che sta sotto Zoro, tra virgolette, io ovviamente mi riferisco a Zoro e anche all'altro personaggio che vedremo più tardi per importanza, è il gruppo che sta nella parte alta dell'isola, mentre il secondo sarà nella parte bassa, ma lo vedrete dopo. Per quanto riguarda questo gruppo abbiamo Zoro, ovviamente Jimbe che lo accompagna, Nami, Brook, Chopper, Robin, Usopp, Lilith e altre due parti di Vegap, anche ovviamente anche Robin. Come vedete, questo gruppo qui è più della metà dei Mugiwara praticamente, cioè è il gruppo più grande in assoluto, contando anche il fatto che in questo gruppetto qua, cioè sia Jimbe che Zoro, stiamo parlando veramente di un piccolo gruppetto, ma molto molto forte. Quando parliamo quindi di questo schieramento qui, per me sembra essere inevitabile che questo schieramento qui potesse proprio andare contro qualche Gorosei. In particolare, se dovessi vedere uno scontro di questo schieramento contro un Gorosei, mi immaginerei Mars. Chi è Mars, ragazzi? Vi rinfresco un po' la memoria. Mars è il Gorosei che ha mangiato il frutto dell'Itsumade, quindi, poche parole, l'unico Gorosei che si può muovere anche verso l'alto, di fatti è l'unico Gorosei che si trova nella parte alta dell'isola. Mars al momento in realtà sta cercando da dove proviene il messaggio di Vegapunk, perché è in realtà la missione principale dei Gorosei e è il motivo per cui sono arrivati sull'isola di Egged. Da quello che ci stanno facendo intuire, questo video messaggio è proprio sulla parte alta dell'isola, la parte alta in cui c'è tutto questo schieramento estremamente forte, estremamente sbilanciato, oserei dire. Se questo schieramento si dovesse rendere conto che effettivamente uno dei Gorosei, in particolare Mars, è vicino alla distruzione del punto in cui viene fatto sentire questo video messaggio in giro per il mondo, beh, allora può essere che una parte di questo schieramento si possa staccare per andare a difendere quella parte di isola, quella parte di Punk Records. Beh, i Mugiwara potrebbero sapere questa cosa attraverso le varie parti di Vegapunk che sono in quel gruppetto lì. Abbiamo infatti Lilith e poi se non erro ci sono anche Edison e Pitagoras, ora non mi ricordo, però non c'è solo Lilith tra le parti di Vegapunk. Quindi in realtà loro dovrebbero sapere tutto questo. Noi vediamo infatti che mentre Vegapunk parla e dà il suo video messaggio, c'è Shaka per esempio insieme a lui, ci sono altre parti di Vegapunk, quindi teoricamente sapevano di questo video messaggio e magari sanno anche da dove è trasmesso. Ora che Mars sta parlando con York, magari anche lui saprà dove è trasmesso. E quindi questo grande gruppo si dovrà magari dividere per andare a difendere quella parte di trasmissione. Come vi ho anche accennato in un altro video, se avremo degli scontri Mugiwara contro Gorosei in questa saga qui, secondo me non saranno gli scontri definitivi. Ovviamente è inutile stare qua a discutere troppo, ma Business Juru sembra essere veramente destinato ad affrontare Zoro e non Mars, ok? Però c'è da dire che questi personaggi qua sono in delle parti completamente diverse dell'isola. E se c'è qualcuno che può affrontare un Gorosei in questo momento qui, in cui i Mugiwara non sono ancora al top della loro forza che vedremo quando vedremo la saga finale, secondo me sarà giusto vedere magari Mars contro uno Zoro e Jinbei insieme, due dei personaggi più importanti di Mugiwara però insieme. Magari aiutati da Usopp, vi ricordo la profezia di Usopp, la bugia in realtà, di quella bugia che disse a Dram in cui spiegò che aveva sconfitto un condor gigante, quindi un volatile estremamente grande spaventoso. E poi ci sarebbe anche Robi in uno dei personaggi secondo me più forti di Mugiwara in assoluto, è anche un personaggio che comunque potrebbe essere molto legata a tutto il concetto del videomessaggio, quindi al fatto che delle informazioni che riguardano il secolo vuoto, molto probabilmente anche delle informazioni che riguardano Ohara, stanno per essere pubblicate al mondo intero. Questo schieramento qui quindi potrebbe andare contro un Gorosei. E l'altra parte di schieramento, penso per esempio a Nami, Chopper, Usopp se veramente non lo vogliamo vedere contro Litsumade, e ci sta, non vedere Usopp contro Litsumade, e anche le altre parti di Vegapunk, quindi anche magari Lilith, potrebbero occuparsi di tutt'altro, perché c'è un'altra cosa di cui si potrebbe occupare questo schieramento, anzi, di cosa si dovrebbe occupare per forza questo schieramento, ovvero far scendere la Thousand Sunny, perché la Thousand Sunny in questo momento è vicina a cadere dalle nuvole di Punk Records, ma è ancora nella parte superiore. Quindi in poche parole questo è quello che mi aspetto per questo schieramento qui. Magari i vari Vegapunk che rivelano al gruppo che questo videomessaggio è in pericolo, perché magari vedono Mars in lontananza, meta del gruppo che se ne va a difendere questo videomessaggio, magari capitanati anche da Robin, proprio per questo legame con O'Hara, e l'altra meta del gruppo che invece si occupa di far scendere la Thousand Sunny. Questo è il primo grande schieramento che ho voluto analizzare in questo video qui. So che è stato un po' complicato discuterne, però veramente la situazione sembra essere molto caotica, nonostante sembra ci stiamo dirigendo verso il finale di saga. Questo era lo schieramento più grande, e ora bisognerebbe passare allo schieramento un po' più piccolo, per quanto riguarda il numero di personaggi, ma sicuramente uno schieramento comunque molto importante. E in questo schieramento comunque ho voluto prendere, per esempio, quello che sarà secondo me il personaggio principale di questo grande gruppo, che nel primo caso è stato Zoro, e in questo caso ovviamente sarà Sanji. Questo è il secondo gruppo. Ovviamente oltre a essere opposti per quanto riguarda la rappresentanza, quindi da una parte abbiamo Zoro che rappresenta il gruppo e dall'altra abbiamo Sanji. In realtà l'opposto di questi due schieramenti, e anche il motivo per cui ho fatto questo video, anche per rinfrescare un po' la memoria, è la posizione, che è comunque molto importante. È vero che la Thousand Sunny è rivolta verso le navi che saranno poi dirette ad Elbaf, però è ancora sopra. Lo schieramento di Sanji, come grande differenza dall'altro schieramento, è che è sotto, è nella parte bassa dell'isola, ed è che si trova proprio davanti alle navi. In particolare mi collego a quello che vi ho detto prima, ovvero il fatto che in realtà questi sarebbero quattro schieramenti diversi che si stanno unendo l'un l'altro, come Zoro e Jinbe che si stanno per riunire alla parte del gruppetto di Nami e Brook. Però non si sono ancora riuniti. Nel caso di Sanji in realtà è già arrivato lì. Cioè Sanji che era insieme a Vegapunk, con Vegapunk in braccio, anche se in realtà dovrebbe essere un cadavere, si è riunito a Bonnie, Frankie, Kuma e Atlas. Quindi lo schieramento è composto da questi personaggi, più Sanji è quello che sembra essere il cadavere di Vegapunk. A differenza però anche dello schieramento di Zoro, dove abbiamo veramente ipotizzato tanto, c'è da dire che per quanto riguarda Sanji in realtà, si trova già davanti a degli avversari. In particolare si trova davanti a tre viceammiragli. Ora, non vi dico ancora chi cavolo sono questi viceammiragli, perché i nomi ancora non sono molto chiari. Però sono tre viceammiragli di quelli che abbiamo già visto. Vuol dire quindi che lo scontro è già un po' chiamato. Contando il fatto che Atlas si combatte, ma noi l'abbiamo vista combattere solo contro degli ologrammi. Vegapunk è morto e Kuma sembra essere tornato un vegetale, rimangono effettivamente tre personaggi che sono pronti a questi scontri. Quindi Sanji, Bonnie e Frankie. Beh, un Frankie contro un viceammiraglio io me lo vedo bene, vi dico la verità. Ma Bonnie, a che ha dimostrato comunque che se crede in Nika, nella sua esistenza può utilizzare dei poteri simili a quelli di Nika, non è un po' troppo per un viceammiraglio. Boh, c'è da dire che non voglio neanche cadere troppo, no, in questa trappola del considerare i viceammiragli deboli, perché anzi un viceammiraglio era comunque un grado che fino a poco tempo fa tutti consideravano essere un grado estremamente molto forte. Però, tralasciando comunque Bonnie, c'è anche Sanji. Cioè Sanji per me è un personaggio estremamente potente, un personaggio che nella sua storia, secondo me, è molto vicino ad affrontare, per esempio, un ammiraglio. Deve fare ancora questo step intermedio dei viceammiragli, dopo comunque aver sconfitto in una 1v1 sana Queen nella scorsa saga? Secondo me Sanji se la può cavare tranquillamente. È anche vero che noi, per quanto riguarda questi tre viceammiragli, ancora non abbiamo visto praticamente nulla, quindi potrebbero veramente mostrarci delle cose pazzesche. però sarebbe veramente un passo indietro per il personaggio di Sanji a livello di scontri, a meno che non se ne occupi lui per quanto riguarda tutti e tre gli scontri. Un'altra cosa che in molti mi avete fatto notare, che comunque è vera, è vera e non possiamo scappare da questa cosa qui, è che Visnujuru, ovvero il Gorosei con la spada per intenderci, che, come abbiamo detto prima, sembra essere destinato a scontrarsi con Zoro e che perché ha la spada e sembra essere asiatico, eccetera, 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 lui è uno di quei personaggi che in realtà non fa parte del discorso che abbiamo cancellato da questo video, ovvero dello scontro centrale di Haggard, quindi Luffy e i due giganti insieme ai Gorosei. Visnujuru, nello scorso capitolo, non si vede praticamente, non è nello scontro centrale, lui sta facendo il giro dell'isola andando a congelare tutti i vari pacifista. E anzi, c'è stata una scena due capitoli fa in cui vediamo proprio Mars che prende il volo e allo stesso tempo vediamo un po' richiamare, no? E la curva fatta dal corpo di Mars nella stessa identica scena con la corsa di Visnujuru, come a dire che loro si stanno occupando di due cose parallele contemporaneamente. Ecco, se Visnujuru sta circunnavigando tutta l'isola di Corsa, ma sembra essere quasi inevitabile che incontrerà questo gruppo. Un gruppo che si deve scontrare certo con i viceammiragli, ma c'è da dire che magari per loro i viceammiragli non sono grande cosa, contando che c'è un personaggio come Sanji in questo momento nel gruppo. Ma Visnujuru contro Sanji sembra essere corretto? Beh, per quello che vi ho detto prima, in realtà potremmo effettivamente vedere una cosa del genere. Come vi ho detto prima, per me, se ci saranno degli scontri contro i Gorosei in questa saga, allora, per forza di cose, non saranno degli accoppiamenti definitivi. E allora sarebbe più sensato vedere questi Gorosei contro magari qualcuno che non sarà il loro scontro definitivo e addirittura magari aiutati da qualcun altro, tipo un Sanji, che sicuramente non sarà lo scontro definitivo per Visnujuru, aiutato da Bonnie e Frankie. Beh, è una cosa che potrebbe funzionare. Oppure potremmo anche vedere che Visnujuru, dopo aver girato tutta l'isola, arriverà di fronte alle navi di Elbaf, perché prima o poi arriverà lì, ricordiamoci che sta girando tutta l'isola, magari nel momento in cui anche lo schieramento di Mugiwara che sta nella parte alta dell'isola sarà in basso. E quindi tutti insieme potrebbero veramente riuscire a superare Visnujuru. Comunque, vedere Visnujuru staccato rispetto a tutti gli altri Gorosei potrebbe essere utile per sapere qualcosa in più sulla lore di questo personaggio, anche solo sulla spada. Ecco, questo video, ragazzi, come avrete intuito, è proprio dedicato a tutti i personaggi che sono senza scontri in questo momento, ma che potrebbero partecipare a diversi combattimenti. E per coerenza, in realtà, io vorrei concludere questo video parlandovi anche brevemente di altri personaggi. E parliamo principalmente di Stussi e degli altri sei viceammiragli. Beh, come avrete notato, in realtà, questa ultima parte bonus è divisa in due parti, no? Quindi con Stussi, che in realtà è dalla parte di Mugiwara, e i viceammiragli, che sono dalla parte, ovviamente, del governo mondiale. Questi sono personaggi che al momento sono scoppiati. Intanto Stussi non sappiamo proprio dove sia, quindi proprio quello è un altro discorso. Probabilmente è ancora nella parte alta dell'isola, è ancora a Punk Records, quindi potrebbe unirsi ai Mugiwara in un eventuale scontro contro Mars. Ma gli altri viceammiragli? Ecco, per lo stesso discorso che abbiamo fatto, è un viceammiraglio, mi sembra comunque un personaggio adatto a uno scontro contro un Mugiwara, ma non contro uno dei top Mugiwara, contando il fatto che personaggi come Nami, come Brook, come Usop, anche fino a un certo punto come Chopper, gli ho inseriti in questo video nella discussione, ma non come personaggi attivi in degli scontri, beh, loro potrebbero effettivamente dedicarsi a questi Mugiwara qui. Ecco, come vedete quindi, la saga di Egged, nonostante sembra essere veramente diretta verso il finale, ha ancora dei grandi punti interrogativi, non solo per quanto riguarda delle informazioni, quindi eventuali informazioni sui frutti del diavolo, su come entrano gli oggetti, per dire che sono informazioni che noi dovremmo avere in questa saga, dovremmo, più tutto il discorso del video messaggio di Vegapunk, ma ci sono ancora dei grandi punti interrogativi, delle grandi incognite per quanto riguarda gli scontri. Quindi ragazzi, come al solito, in pieno stile e proprio filosofia del canale Mera Mera, scrivetemi sotto nei commenti che cosa ne pensate intanto di quello che abbiamo detto in questo video e secondo voi com'è che Oda gestirà questa questione degli scontri. Vi ricordo che gli spoiler del capitolo dovrebbero uscire già oggi pomeriggio o domani, più o meno, dovrei fare anche un video se usciranno già qualche int sta uscendo e il capitolo dovrebbe uscire più o meno a fine settimana come eravamo soliti fare un mese fa. Quindi noi ci vediamo questa settimana ancora con il capitolo che uscirà, mi raccomando fate i bravi e ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti.